Guarda la Rocca di Sala, ci sono delle novità? Ma io spero, noi abbiamo fatto una ricognizione dei progetti da me lasciati nel 2010, abbiamo recuperato questo lavoro fatto dall'architetto Buselli che presenterò al Ministro Franceschini il giorno 24, appuntamento a Roma, il Ministro è stato così gentile da darcelo subito in funzione della nostra richiesta e ci presenteremo là spiegandogli quello che poi in realtà già conosce, perché il Ministro era già stato informato da me, io gli ho fatto vedere la struttura della nostra Rocca in occasione della sua visita la scorsa estate quando fu presente all'iniziativa di Più Forte del Vento, già allora mi ha dato la sua disponibilità e oggi concretizziamo quel lavoro portando alla sua attenzione il progetto di ristrutturazione della Rocca di Sala, per noi sarebbe un qualcosa di importante, veramente importante. Volei in pentola qualcosa anche per quanto riguarda Mitorai? In quell'occasione illustrerò la nostra idea di realizzare il museo a Igor Mitorai, credo che sia doveroso farlo nell'interesse ovviamente della città e in memoria di uno dei più grandi scultori al mondo, già esiste un accordo informale con gli eredi del Maestro, con i quali abbiamo dialogato circa la possibilità di ottenere un numero di opere importanti, anche monumentali, dobbiamo e approfitto ovviamente dell'opportunità che il Ministro ci dà, individuare l'area più giusta, lo spazio più giusto, sarà costituita una commissione alla quale assegnerò 6-8 mesi di tempo per produrre un progetto, all'interno di questa commissione dovranno essere presenti sicuramente personalità del mondo museale che hanno la conoscenza di come funziona un museo, sicuramente gli eredi dell'artista, probabilmente il gallerista che oggi è fra gli eredi dell'artista e ovviamente personalità del mondo dell'arte, del mondo della politica anche e appassionati anche della materia che andremo a discutere. Il centro storico di Pietrasanta dovrà essere arricchito di questo importante museo e noi nel giro di 24 mesi dobbiamo veramente dare una risposta a inaugurare.